benvenuto benvenuta ad un nuovo episodio di braincast il podcast intelligente per persone interessanti su questo podcast di solito parliamo di finanza personale investimenti investimenti immobiliari ci siamo recentemente anche aperti al tema della comunicazione che riteniamo importante per chiunque faccia impresa e abbia un progetto imprenditoriale o professionale ma in generale a chiunque lavori con qualcun altro imparare a comunicare è fondamentale e ne abbiamo parlato con chiara alzati nell'ultimo episodio in questo episodio invece abbiamo deciso di coinvolgere un'esperta di carriera e di sviluppo professionale fabiana andreani detta anche fabiana manager un'autentica autorità quando si parla di sviluppo professionale e sviluppo di carriera su instagram e tiktok parla quotidianamente ai giovani aiutandoli ad acquisire competenze e sicurezza nei confronti di un mondo lavorativo in costante trasformazione ed è anche l'autrice del libro lavora alla grande guida all'orientamento e al lavoro per neolaureati questa è la mia intervista a fabiana manager buona visione più che altro come soft skills ce ne sono alcuni che secondo me sono veramente basilari tra cui la prima è la famosa imparare ad imparare che non è un pleonasmo ma semplicemente vuol dire essere pronti comunque ad abbracciare anche il cambiamento io dico sempre ai ragazzi che il talento non è qualcosa di come dire di gifted qualcosa di donato dal cielo il talento è qualcosa che ci viene bene fare prima secondo me analizzare un po' tu chi sei cosa ti piace e quali sacrifici vuoi non vuoi fare mi spiego meglio ingegneria gestionale ok panacea trovi lavoro subito pam molte aziende fanno anche dei business case volrebbe dire ti fanno o magari durante la selezione fanno un caso di studio che ti fanno risolvere oppure ti danno a casa ti dicono elaboraci l'idea di una strategia per non so l'allancio di questo prodotto come la faresti quello che vogliono è sentirsi anche responsabile del proprio lavoro quindi magari più che odiare l'assenza di smart working odiano l'assenza di ascolto c'è un'azienda che impone stammi cinque giorni a settimana perché perché lo dico io anche se il venerdì non c'è le regole sono queste bene fabiana eccoci qua benvenuta grazie l'obiettivo di questa chiacchierata è fare un po il focus cioè fare un approfondimento su sul tema del lavoro e quindi abbiamo deciso di coinvolgerti per capire un po meglio da da dall'altra parte da dietro le quinte perché io vedo il mondo del lavoro dal mio punto di vista che quello di un datore di lavoro è però mi piacerebbe vedere un po come lo vedi tu parlando con i ragazzi facendo aiutandoli nel loro anche processo di inserimento nel mondo del lavoro e quindi grazie per essere qui a fare quattro chiacchiere grazie mille a te per l'invito bene allora la prima domanda è quali nel mondo del lavoro di oggi quali sono le competenze che vedi più richieste dalle aziende e poi magari anche con una precisione sul tipo di aziende di tipo di settore ok diciamo diciamo togliendo quelle che possono essere le competenze tecniche specifici più che altro come soft skill ce ne sono alcuni che secondo me sono veramente basilari tra cui la prima è la famosa imparare ad imparare che non è un pleonasmo ma semplicemente vuol dire essere pronti comunque ad abbracciare anche il cambiamento le aziende sono fatte per cambiare sono fatte per resistere anche shock che possono essere sia pandemia shock economici ma più che altro adesso c'è una velocità di cambiamento tale per cui la persona deve essere anche pronta a rimettere in discussione fare un discorso di upskilling quindi comunque di formazione continua durante tutta la sua vita lavorativa che attenzione si può anche fermare si può anche concentrare su progetti paralleli si può anche concentrare totalmente sulla formazione per poi ricominciare quindi messaggio che dico ai ragazzi state diciamo tranquilli che non state cercando il lavoro della vostra vita sta cercando un inizio soprattutto anche una conferma una smentita quelle che sono le vostre competenze soprattutto poi anche tutta una serie di appunto abilità che vi verranno con l'esperienza altre competenze che ti posso dire sicuramente sono quella che è la capacità relazionale perché relazionarsi con gli altri soprattutto in un mondo ibrido è essenziale la famosa intelligenza emotiva di golman per ibrido intendi online offline soprattutto anche perché i team di lavoro attualmente adesso non dico per un'afficina metalmeccanica però magari per una società di consulenza i team non sono più nello stesso posto ci sono anche dei lavori fully remote ci sono dei lavori che presepongono che i team siano in vari fusi orari quindi non c'è solamente la questione del devo approcciare la diversità culturale ma anche proprio la diversità del fatto che sono persone immerse ognuna nella propria bolla che poi si incontrano quindi questa è comunque una competenza che i giovani generazioni hanno già intrinseca già nel modo appunto di informarsi di fruirsi di essere con i social connessi con diverse realtà e poi un'altra competenza secondo me basilare ma appunto non scontate quella che è la cosiddetta appunto abilità di capire come dicevo prima l'intelligenza emotiva quindi capire anche dove dove siamo quali sono le regole non scritte e mi parlo parlo soprattutto per i giovani capire anche chi può essere una nostra spalla soprattutto per imparare per avere comunque un confronto che non è detto sia il nostro capo diretto una figura di riferimento sì esatto mentore sì diciamo che questo molto probabilmente potrebbe essere il nostro tutor di stage ma non è detto potrebbe essere anche un collega con qualche anno in più tante altre competenze poi sono nelle statistiche del world economic forum non le sto qui a elencare però sono competenze che vanno dalla appunto la resistenza allo stress il critical thinking la capacità appunto di gestire dei progetti complessi il che vuol dire anche mettere in conto che avremo a che fare anche con momenti della nostra vita in cui avremo delle competenze altri in cui come dicevo prima queste competenze verranno meno ne dovremo imparare da altri soprattutto anche la capacità di vedere il business dove magari non c'è questo parlo soprattutto per gli investitori persone che magari lavorano con un approccio imprenditoriale dici esatto molte aziende adesso soprattutto multinazionali di stampo americano hanno questo approccio che si chiama intrapreneurship cioè stimolano i dipendenti ad avere le proprie idee chiamiamoli imprenditoriali all'interno dell'azienda questo diciamo l'antesignano fu google che con non so l'idea di dare il 20% ha creato google maps per dire e adesso altre aziende lo fanno perché comunque vuol dire avere una fucina di idee costante che ti permette anche di resistere al cambiamento e di essere più pronta ad approcciarti al mercato e queste competenze ci si nasce o si riescono a sviluppare ma allora si sviluppano molto probabilmente allora io dico sempre ai ragazzi che il talento non è qualcosa di come dire di gifted qualcosa di donato dal cielo il talento è qualcosa che ci viene bene fare qualcosa che comunque possiamo anche scoprire qualcosa che possiamo anche allenare assieme al talento vanno anche i nostri lavori i nostri valori il nostro stile di vita quindi molto spesso noi siamo bravi a fare qualcosa perché risponde anche al nostro modo di essere se sono una persona magari più riservata mi verrà bene magari organizzare piuttosto che negoziare con gli altri per quanto riguarda l'allenamento ai talenti fondamentali soprattutto durante gli studi anche concentrarsi con attività extracurriculari anche coltivare la conoscenza su ambiti che magari sono distanti dal proprio percorso di studi per esempio la finanza personale qualcosa che a livello di literacy di universitari manca un pochino c'è c'è quest'idea di si diventa l'investito l'investitore l'angel lì di riferimento investi in cripto però magari non sai gestire minimamente quelle che sono le tue finanze in un piano di accumulo per la pensione ecco diciamo parliamo di degli estremi quindi direi ecco allenarsi soprattutto a capire cosa ci piace facendo anche tante cose che non vuol dire disperdere energie vuol dire anzi abbracciare il mondo abbracciare quelle che possono essere nuovi stimoli e dagli stimoli nascono anche opportunità e questo atteggiamento che condivido al cento per cento anch'io sono sempre guidato dalla curiosità poi magari chissà se mai utilizzerò quelle conoscenze un domani però mi piace guidare il mio percorso di crescita così e le trovi sono frequenti o sono devo dire la verità ti posso dire allora i ragazzi con cui parlo durante sui miei canali sono veramente delle persone brillanti hanno tantissimi interessi si fanno tantissime anche domande questo è bello perché la domanda è fuoriera dell'apprendimento e anche di quello che può essere un'evoluzione una crescita personale trovo però anche tanti tante come posso dire falsi miti persone che magari pensano che laurearsi più tardi per aver fatto l'erasmus sia un male quando io dico andare all'estero anche lavorare durante l'università e laurearsi non nei tempi assolutamente un regalo che stai facendo perché a volte il curriculum della persona che ha studiato solamente anche se è uscita col 110 lode non fa una bellissima impressione perché manca un po di quella parte come dicevo prima personale extracurriculare in cui viene fuori individuo con le sue esigenze con i suoi atteggiamenti con il suo modo anche di appunto capire il mondo vedere una persona che magari ha studiato solamente non ha fatto esperienza all'estero ha fatto altro poco nulla allora d'accordo ci possono essere dovuti distinguo perché dubito che uno che fa medicina abbia tanto tempo di farsi un progetto personale però diciamo che poi inizi magari avere dei dubbi sul fatto che sia una persona magari flessibile una persona aperta al cambiamento magari inizi a pensare che sia una persona un pochino troppo pedisse qua su quello che può essere lo studio mnemonico universitario concordo nel senso che anche io per le persone che ho inserito nel mio team ho sempre cercato qualcosa in più da infatti domande che faccio spesso a cosa leggi o cosa fai nel weekend e devo dire che per ora sono contento nel senso che è stato un modo di scegliere le persone focalizzandomi non tarro non troppo su sei analista finanziario ma come se lo sei diventato che cosa cosa fai in più al di là della certificazione e devo dire che si concordo ed è mi fa piacere trovare riscontro l'ho un po trovato a mio a mio come dire autonomamente questo modo di scegliere le persone ok io sono molto appassionato di personal branding quindi di fare comunicare e online e fare percepire le altre persone i miei valori eccetera però il mio è un settore imprenditore cioè io sono un imprenditore quindi lo faccio per le mie aziende eccetera è un'attività quella del personal branding quindi della promozione personale che tu vedi vincente e con del potenziale anche a livello di persona che non vuole fare imprenditore ma vuole fare il dipendente e se sì perché assolutamente ma io stessa sono un dipendente quindi il mio personal branding mi ha reso anche come dire qualche occasione di crescita all'interno dell'azienda che mi ospita allora il personal branding non è semplicemente una sorta di promozione personale vuota volta compra questo servizio compra i miei servizi ma vuol dire stabilire come vogliamo essere visti dal mondo quindi piuttosto che dire lasciamo gli altri che ci diano un'etichetta siamo noi a prendercela questa etichetta come costruendo cioè volevo dire soprattutto producendo contenuti che possano apportare valore all'immagine che vogliamo dare per contenuti intendo anche banalmente un account social che rifletta quello che noi vogliamo essere partecipare attivamente a discussioni su quelli che sono magari gruppi di linkedin creare magari attività personali eventi partecipare anche a attività magari molto più locali nella quale farci conoscere e poi soprattutto essere costanti sul messaggio il personal branding non è un fuoco d'artificio boom ma solo una persona ma è una costanza cioè soprattutto io faccio sempre l'esempio di un ragazzo molto brillante che conosco che si chiama lorenzo ferrari che ne ho laureato della ulma che è diventato la voce più influente under 25 su linkedin perché lui dal 2019 per ogni giorno si è messo a parlare di pubblicità non convenzionale parla oggi parla domani parla dopo domani è diventato una persona consigliata attendibile un po un punto di riferimento pur essendo una persona non laureata e anche molto giovane quindi questo che vuol dire che parlando di un argomento attrae persone interessate a quell'argomento ti distingui e ti rendi anche riconoscibile un po quello che sto facendo io io dico spesso non sono l'unica persona che fa questo lavoro molto probabilmente non sono nemmeno la migliore ma sono quella che ha iniziato a parlarne con una costanta sui social meno presidiati su questo tipo di tematiche per questo sono diventata punto di riferimento certo ok abbiamo parlato di soft skill invece passiamo un attimo al tema delle competenze come dire vere e proprie quelle hard oggi un ragazzo che il pubblico del nostro canale è più che altro tra i 25 e i 55 anni però per un ragazzo che magari deve decidere che università fare che suggerimenti puoi dare proprio a ruota libera da ma allora a ruota libera ti direi l'università non si sceglie semplicemente per il lavoro cioè per dire non scegli ingegnere gestionale perché dai il lavoro perché poi in mezzo ci sei tu devi prima secondo me analizzare un po tu chi sei cosa ti piace e quali sacrifici vuoi non vuoi fare perché mi spiego meglio ingegneria gestionale ok panacea trovi lavoro subito pam però sono una persona in grado di gestire quel tipo di studio mi appassionano quelle materie sono disposta a fare quei tipi di sacrifici come analisi 1 analisi 2 analisi 3 ok magari alcuni mi potrebbero dire non ti devi far bloccare dalla paura però direi anche sì conosciamoci perché se magari sono una persona che non vuole studiare tantissimo magari non vado a scegliere medicina perché so già di per sé che è una facoltà lunghissima oppure se sono una persona che tendenzialmente vuole rimanere dove nata ci sono anche persone del genere perché vado a studiare lingue che poi so che necessariamente mi porta a andare all'estero oppure se sono una persona che odio è odio la precarietà non andare a scegliere magari una facoltà che ha magari un tasso di inserimento troppo basso ecco bisogna anche capire un po che non è semplicemente scelgo quello che dia lavoro scelgo quello che mi piace scelgo anche quello che mi assomiglia detto questo ci tengo però a dirla anche tanti ragazzi che tante professioni in azienda soprattutto professioni non tecniche cioè non finanza non quella che può essere appunto la parte di produzione si imparano sul campo quindi tu puoi studiare benissimo filosofia ad essere contento di aver studiato filosofia triennale magistrale trovare loro in azienda nel commerciale nella parte di comunicazione nelle risorse umane nella parte di data analysis nella parte di tutta la parte di performance perché questo perché alleni tutta una serie di competenze trasversali che ti portano ad essere portato per queste attività e la formazione la fai sul campo io stessa sono una dimostrazione non ho studiato per fare fabiana manager non ho studiato per fare risorse umane ho studiato linguistica giapponese quindi da lì però è chiaro ho messo in piedi tutta una serie di competenze che erano dal punto di vista organizzativo relazionale di pianificazione che mi ha portato ad essere in linea per questo lavoro che è un lavoro che se ci pensiamo non è un lavoro stratecnico è un lavoro che tu impari però devi avere un pochino un setting di competenze e attitudini che fa la differenza quindi ragazzi io direi scegli quello che ti piace fai un po i conti anche con te stessa è chiaro si è realistico però non ci cruciamo se poi cambiamo cambiare è normale perché fa parte della nostra scelta non siamo dei muli non siamo delle persone che appunto restano tali per tutta la vita si te lo dice uno che è ingegnere meccanico e adesso si occupa di finanza quindi no e infatti la un po il penso che l'interrogativo che può avere un ragazzo è io non lo so ancora cosa mi piace e io devo dire che l'ho scoperto più avanti negli anni io prima di cambiare vita ho fatto nove anni da impiegato nel settore metallo meccanico quindi e questo è questa è un po la sfida riuscire a capire cosa ti piace e secondo me capire cosa ti piace mi ricollego a quello che dicevi tu prima è l'unico modo per scoprirlo è fare esperienze è testarsi quindi tirocini non focalizzarsi troppo sull'oggi su cosa porta a casa da questa esperienza ma mettermi a dura prova non a dura prova mettermi alla prova a prova sì esatto e non solo cosa mi piace cosa non mi piace sì esattamente no no ma scondivido benissimo anzi io sono una persona che ti dice che secondo me qualsiasi colloquio non andrebbe mai rifiutato perché il colloquio è una possibilità anche di confrontarsi di capire un po meglio l'azienda così ti offre e valuti se ti interessa poi anche ogni tipo di lavoro il mio lavoro l'ho trovato per caso perché cercavo un lavoro a milano ho trovato lavoro in questo settore e lì sono rimasto ho scoperto che mi piaceva quindi un po come è successo a te diciamo che quello che hanno paura i ragazzi adesso è la paura di sbagliare cioè viviamo in questa società dell'eccellenza dove sembra che tutti vadano come un cannone cioè vanno dritti alla meta in realtà non funziona così la vita è fatta di tanti piccoli bivi piccole deviazioni un po come un aereo che deve partire da una partenza una meta non è che fa un tragitto dritto e riallinea la sua rotta man mano quindi fa una retta tutt'altro è una metafora che facciamo anche noi spessissimo è così ma è assolutamente ma quello che ecco c'è da dire che il cambiamento non è mai fioriero di fallimento io ho studiato per 15 anni giapponese non ci ho mai lavorato se te lo dico così ti dici capita che spreco di tempo che non potevi fare altro nella tua vita no perché io il fatto di aver studiato giapponese ti dirò mi ha fatto trovare il primo lavoro perché ai colloqui spiccava questa esperienza lunga all'estero un estero poi tra l'altro non troppo comune quindi devo dire la verità grazie al fatto che ho studiato giapponese con cui grazie al fatto che sono andata sui social un giorno su tiktok che sono qui quindi nessuna tipo di esperienza è vana se ne facciamo poi tesoro sì tra l'altro c'è quel famoso discorso di steve jobs a stanford dirò direi non so se l'hai visto di unire i puntini esatto lui diceva che l'apple ha il mac si il mac ha questa particolare cura sui caratteri perché lui era appassionato di non so come si dica l'arte di scrivere bene diciamo ha fatto dei corsi all'università poi non si è mai laureato ma lui ha fatto i corsi che gli interessavano all'università e poi gli è servito dopo dieci anni dopo gli è servita quella competenza lì bene interessante abbiamo parlato di colloquio e come mi piacerebbe magari un tuo suggerimento una tua guida su come prepararsi da un colloquio per un colloquio scusami dal punto di vista del del candidato e dal punto di vista dell'azienda cioè che deve magari capire come valutare queste soft skill una cosa che per me è molto sfidante è che i colloqui durano poco tu come fai a capire come fa i colloqui durano poco con due ore di colloquio magari due colloqui da un'ora quindi mi piacerebbe che ci dessi un po il entrambi i punti di vista del ragazzo lavoratore e datore di lavoro all'inizio subito dall'azienda l'azienda deve capire che non è sola nel mondo che non sta facendo un favore a nessuno ma anzi che deve cercare anche di vendere al meglio quelle che sono le sue potenzialità perché il miglior talento non viene da te semplicemente perché ti dici ti offro lavoro perché ti offro anche uno stile di vita un setting di possibilità quindi la tua azienda direi che la selezione non è qualcosa che possono fare chiunque quindi dovrebbero essere persone in grado di gestire la selezione sia HR ma anche manager di linea persone che non fanno selezione di professione per dare tutte le informazioni sull'azienda sui propri valori dopodiché il candidato qual è l'errore scusa se ti interrompo qual è l'errore più comune che viene commesso secondo te dalle aziende che non hanno magari la persona giusta dalle aziende che allora uno che hanno un pochino di bias cognitivi a volte si affinano tanto a quelle che possono essere il percorso di studi il bocconiano quindi il bocconiano vale lo prendiamo e due che tendono un pochino a sottavolettare il fatto che anche le persone selezioni soprattutto le nuove generazioni non sono così disposte a venire a patti quando cercano un lavoro vorrebbe dire che se tu dici no non chiediamo allo smart working perché noi lavoriamo bene così la generazione z dice vabbè ma a me non mi frega niente se non c'è lo smart working non vengo da te non sto elimosinando un lavoro che non mi piace oppure se fanno leva solamente sui dati di mercato tipo siamo di mercato fatturiamo questo siamo il primo in italia a me non mi importa nulla a me importa se tu mi dici che è un ambiente che mi fa crescere è un ambiente che mi forma è un ambiente che mi permette di dare un impatto positivo questo le nuove generazioni ce l'hanno chiara loro non interessa avere il nome sul gaiardetto sul curriculum se possono aziende che qualcuno dicono tradizionali ma magari sono semplicemente delle aziende restie al cambiamento vecchio ecco insomma a volte e poi appunto lato azienda c'è anche la tendenza a basarsi troppo solo sulle parole io direi fallo lavorare un candidato cioè non vuol dire fallo lavorare a gratis in nero però puoi far fare delle prove tecniche se c'è l'utilizzo di un software fai fare delle prove tecniche molte aziende fanno anche dei business case vorrebbe dire ti fanno o magari durante la selezione fanno un caso di studio che ti fanno risolvere oppure ti danno una casa ti dicono elaboraci l'idea di una strategia per non so dal lancio di questo prodotto come la faresti e lì vedi quanto la persona è abile soprattutto quanto è consapevole di quel tipo di attività che stiamo noi andando a proporre poi detto questo è chiaro che la selezione dovrebbe essere anche articolata in più step non perché ci sia bisogno di perdere tempo ma semplicemente perché più punti di vista arricchiscono anche quella che è la votazione sul appunto sul candidato se lezioni troppo precipitose a me non sono troppo utili anche se magari si basano su un curriculum di persone che hanno magari tantissime esperienze bisogna un pochino vedere e soprattutto valutare non solamente l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto relazionale soprattutto se andiamo in un team abbastanza ampio ok e invece dal punto di vista del candidato cioè quindi il colloquio io che voglio venire a lavorare da te ma allora il candidato adesso diciamo non è che voglio dire errori a volte sono per inesperienza altre volte sono perché magari il candidato pensa un po' con la sua testa mentre non diciamo che bisogna avere in mente che il colloquio è mirato a un tipo di competenze che vengono ricercate per una posizione non è una chiacchiera libera sulla tua vita chi ti seleziona ha bisogno di un certo tipo di competenze un certo tipo di attitudini quindi tu la tua bravura è quella di intercettare quali possono essere queste queste caratteristiche o dalla job description o magari le informazioni che possono essere il sito dell'azienda la mission i valori vedere come comunicano gli altri dipendenti quanto sono rimasti in quell'azienda qual è il loro business quali sono i loro competitor quindi detto questo bisogna imparare a prepararsi soprattutto una presentazione personale che non sia alle medie o alle superiori facile o prefinda piccola come dicono tutti no deve essere concreta su quello che mi può interessare e due metterla sul piano del come ti posso essere utile perché all'azienda interessa questo non interessa che questa posizione sarebbe un'importante opportunità per la mia crescita personale per realizzare quello che ho studiato nella pratica come mettono molti nel curriculum ma dire grazie ai miei studi acquisito competenze di organizzazione analisi dati per questo mi considero una persona adatta al vostra struttura anche perché mi è capitato né durante gli studi di studiare anche delle case history provenienti dal vostro campo della vostra azienda cioè concretamente dire perché possiamo essere d'aiuto e magari dire perché vogliamo lavorare con questa azienda l'altra cosa da pensare è che le selezioni non sono solamente un ivo che siamo anche noi che selezioniamo quindi quando dicevo prima al lavoratore non interessa al candidato non interessa l'azienda leader di mercato vuol dire facciamoci anche delle domande per capire degli degli spunti che possono esserci utili per valutare se quella posizione è in linea con quanto noi cerchiamo domande che possono essere tipo che formazione prevista come sarà valutato il mio lavoro a chi farà un riferimento quali sono magari le sfide per il futuro come vede il futuro di questo settore nei prossimi anni cosa ci fanno capire un po' l'azienda che posizionerà se è un'azienda attenta al futuro pure chiusa nella sua gerarchia di addio siamo i primi quindi non ci ne frega nulla non funziona così una cosa che ho notato ricollegandomi al punto che dicevi di capire se tu candidato sei adatto a quella realtà è la qualità delle domande che io datore di lavoro ricevo cioè cosa ti interessa capire se quello che ti interessa capire è a che ora finisce che ora si lavora dalle 9 alle 18 non è particolarmente stimolante per me che ti devo vendere tra virgolette la posizione qui dentro e al contrario invece se appunto mi chiedi il piano di crescita è molto interessante e visto che per dire nella mia realtà io sono molto sono ossessionato dal creare un piano di crescita e ci tengo a parlartene e capisco che ti interessa un'evoluzione di questo tipo quindi è molto molto importante mi sono ritrovato molto in quello che dicevi passando al tema smart working che l'hai menzionato prima e delle aspettative che hanno anche le nuove generazioni ormai sono sì nuove nel senso che un ragazzo che ha vent'anni ha comunque vent'anni in meno di me e mi fa un certo rispetto diciamo che ovviamente ormai è stato sloganato lo smart working è sicuramente una sfida per le aziende soprattutto quelle che non riescono ad avere attività basate su obiettivi perché fai fatica a capire magari se la persona sta performando o meno perché non riesce a misurarlo però dall'altra parte hai la richiesta di una si parla della grande le grandi dimissioni sia a livello di america che anche qui quindi persone che cercano un migliore equilibrio vita lavorativa vita professionale vita personale quindi anche qui mi piacerebbe avere una tua un tuo punto di vista da entrambi i lati dal punto di vista del ragazzo che chiaramente vorrebbe questo maggiore equilibrio e dal punto di vista della torre di lavoro che in certi casi è aperto io sono molto aperto e sto introducendo anche dei cambiamenti dall'altra parte ci sono dei delle realtà in cui è oggettivamente difficile quindi volevo un tuo punto di vista su punto di vista c'è l'osservatorio dello smart working del politecnico di milano che dice che appunto c'è stato sicuramente un cambio di rotta il modello che si sta in adesso diciamo in italia mettendo in pratica non è tanto quello di un remote working quanto di un modello ibrido dove si passa del tempo a casa nel tempo in ufficio che però sia significativo cioè finalizzato a delle attività che magari a casa non puoi fare incontri formazioni lato ragazzi allora questo tipo ti dirò un punto di vista opposto di quello che uno potrebbe pensare cioè i ragazzi vogliono stare anche in presenza perché comunque per una primissima esperienza per una formazione essere in presenza sentirsi parte di un team è importante essere lì in quel posto quindi ti direi che quello che io sento non sono dei ragazzi che vogliono fare il remote working in nome di digitali a meno che non siano appunto degli sviluppatori o persone che lavorano con ads i ragazzi vogliono sentirsi parte di una famiglia vogliono sentirsi parte di una azienda quello che vogliono è sentirsi anche responsabile del proprio lavoro quindi magari più che odiare l'assenza di smart working odiano l'assenza di ascolto cioè un'azienda che ti impone stammi cinque giorni a settimana perché perché lo dico io anche se il venerdì non c'è nessuno le regole sono queste sì vogliono una possibilità di flessibilità sulla base di quelle che sono le proprie esigenze per occhio le nuove generazioni non sono degli stupidi non sono le persone che dicono voglio fare quello che aspita mi pare vogliono essere efficienti vogliono rispettare quelle che possono essere le esigenze del cliente o del business però vorrebbero avere più responsabilità essere parte di un progetto più che di parte di un team comandato da un manager che controlla le mail quindi questo è un po il cambio di rotta ecco le persone gli obiettivi esatto valutati più per obiettivi che più per il tempo passato in ufficio è questo diciamo poi se trovano un'azienda capace di ascoltare della loro fiducia è quello che loro cercano se trovano un'azienda invece che si trinceva dietro al abbiamo sempre fatto così e ma tu che sei in stagia ancora conti poco oppure a te non ti possiamo dare questi privilegi perché non sei ancora assunto ahimè più vedi che queste persone se ne vanno in poco tempo anche perché il mercato del lavoro soprattutto in certi settori è molto vivace non è che uno resta in quell'azienda vita per la pensione uno sa già che si vuole andare e spera anche di potersene andare per trovare opportunità migliori ok no sì sicuro condivido ed è una sfida per chi vuole sta cercando risorse è una sfida perché per quanto io comunque non sia come dire cioè abbia una mentalità in giovane e cerco di stare sul mercato però certe attività sono soprattutto all'inizio sono difficili da riuscire a devo fare sia la formazione sia voglio darti la possibilità di farla autonomamente questo molto spesso non è non è semplice e concordo sul tema del del senso di gruppo una cosa che ad esempio me un po paurisce del tema smart working si fa si fa fatica a legare le persone e capisco che tu mi dai conferma che c'è un desiderio anche dall'altra parte di voler legarsi perché sì io ho molti amici di datori di la cia di delle realtà per cui lavoravo dieci anni fa ci vediamo ancora e i legami li abbiamo fatti in ufficio quindi è una sfida e c'è da lavorarsi costantemente quantomeno dal punto di vista di chi da lavoro bene molto interessante e genitori tra le note che mi ero segnata c'era anche una domanda sui genitori secondo e a questo mi collego perché un po alla domanda di prima quindi i soft skill si possono imparare o sono il risultato del di un'educazione che comunque riceviamo io faccio fare i miei figli una scuola in cui li abitano molto al problem solving non gli danno risposte gli fanno solo domande fondamentalmente con l'obiettivo di aiutarli a stimolare il problem solving e sviluppare il pensiero critico quant'è importante il ruolo dei genitori e magari per ragazzi che hanno 16 anni 18 anni che cosa possono fare per aiutarli a sviluppare comunque queste competenze che magari prima di quanto non gli verrebbe richiesta dal mercato del lavoro per dire beh allora diciamo non parlo io ho un figlio ma mio figlio ha tre anni quindi ancora hanno tutta questa esperienza di gestire gli adolescenti ti direi che il ruolo dei genitori è fondamentale soprattutto adesso anche come posso dire persona che fa da mediatore tra tutte le informazioni che i ragazzi arrivano e la realtà perché i ragazzi hanno comunque un accesso a informazioni praticamente infinito tiktok si vede appunto come funziona ci vuole qualcuno che ti metta non dei paletti non dei vieti ma qualcosa che ti dica un po' come funziona la realtà che il mondo sì siamo in crisi ma il mondo non sta finendo e le persone sono andate in guerra e sono tornate il mondo è andato avanti quindi dare un po' anche i tuoi problemi a livello di mondo hanno bisogno di avere fiducia ai ragazzi perché sono anche immersi in questa romanzo mediatico in cui dicono i ragazzi non c'è noia di fare niente non c'è lavoro non avete la pensione no i genitori possono avere questo ruolo di come dire mediatore soprattutto mediatore che li porta verso la realtà quello che succede che purtroppo e non è colpa dei genitori ovviamente che agiscono sempre in buona fede è che magari i genitori vengono da un mondo diverso anche lavorativamente parlando con delle dinamiche diverse non c'è la generazione x dei genitori dei ragazzini della generazione della z di adesso ragazzini ragazzi sono parliamo di gente che ha 24 25 anni sono persone che tendenzialmente hanno sempre magari lavorato nella stessa azienda hanno fatto delle carriere in crescita e magari sono state anche pullate dal mito del più lavori più produci più ti tornerai indietro adesso il paradigma è diverso adesso il paradigma è trovare un equilibrio più che lavorare alla iuppis anni 80 perché non è detto che ti tornino indietro le stesse sforze più che altro è trovare un lavoro che ti assomigli quindi un genitore adesso attualmente ti direbbe non lasciare un lavoro a tempo indeterminato anche se non ti fanno fare quello che vuoi o comunque ti trovi magari stretto oppure anche se ti trovi a livello psicologico a disagio ma rimani mentre adesso c'è anche un ascolto verso tutto il tema della salute mentale al lavoro verso l'equilibrio verso il capire che non è solamente lo stipendio a darti la qualità della vita ma sono altri aspetti anche non valutabili economicamente e questo forse i genitori ancora hanno difficoltà a capirlo capire che ci sono dei ragazzi che per esempio non ha non amano il lavoro dipendente vogliono fare un lavoro da freelance perché hanno bisogno di gestire come vogliono ora è chiaro che siamo in un momento di passaggio un momento di cerniera i genitori ti portano la visione di un mondo che andava in un modo adesso c'è il mondo che va ad un'altra velocità non è sbagliato questo mondo semplicemente siamo in una generazione un po di come dire passaggio chi è millennial lo sa chi è generazione z sa solo una realtà che è in crisi però tendenzialmente sono persone io quello che vedo le nuove generazioni che hanno voglia di impegnarsi soprattutto vogliono dare un impatto positivo nel lavoro quindi non sono persone che semplicemente sono lì per il guadagno sono lì anche per una crescita personale sì un appagamento al di là dell'aspetto economico dice ho capito ultima domanda perché potrei stare qui un'altra un'altra mezzo voglio liberarti e abbiamo parlato di di giovani che entrano nel mondo del lavoro non abbiamo parlato di non più giovani che sono nel mondo del lavoro ma vorrebbero qualcosa di più perché magari sono incastrati a livello di carriera in una posizione non riescono a non trovano magari delle delle vie per riuscire a riprofessionalizzarsi e insomma sono un po' incastrati in una posizione che che cosa ti senti di dire che che idee può sfruttare una persona per riuscire magari a rimettersi in discussione professionalmente quando magari hai 35 40 anni allora allora lì è chiaro che c'è a profondo però diciamo non è un mondo sì ma io sono molto concreta non è che ti dico fa il jump butta all'aria tutto e ricomincia è una persona concreta sono una persona che piuttosto porta avanti i due lavori più di andare solamente a partita iva quindi cioè te lo te lo confesso beh allora c'è un discorso soprattutto di capire da dove nasce questo disagio qual è la causa la causa è un picco di lavoro momentaneo una cosa strutturale nel genere che non sa non vogliamo più fare questa vita da pendolare vogliamo appunto il lavoro che magari ci assomigli di più quello che c'è che appunto i 35 40 anni 50 anni hanno sicuramente un capitale di esperienza di competenze che deve essere individuato quindi cerchiamo di capire cosa sappiamo fare cosa possiamo rivendere è secondo me un po' utopistico dire ricomincio da zero perché a meno che tu non ti metta in proprio e abbia comunque dei clienti difficile che un'azienda ti prenda in considerazione facciamo più leva su cosa abbiamo e soprattutto investiamo magari una formazione mirata che ci porta ad essere competitivi per il mercato del lavoro che vuol dire cambio azienda vale un'azienda più grande più piccola oppure cambio città ma vale un'altra città oppure a fianco alla mia attività lavorativa magari con un'attività che mi gratifica al momento la faccio da freelance e poi magari diventa la mia attività principale quindi c'è sempre un discorso di capire cosa abbiamo e dove vogliamo arrivare non ci non ci si muove diciamo come dire con i salti secondo me con il buttarsi si muove più che altro per piccoli cambiamenti è un processo un pochino più lento però un percorso che ti dà magari maggiore sicurezza soprattutto di la possibilità di cambiare rotta non appena ci accorgiamo che magari la strada sta prendendo un tracciato che non è quello che ci interessa sì 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 no sono d'accordo e sto pensando a cos'altro chiederti no bene c'è qualcosa che secondo te è con cui potremmo chiudere questa chiacchierata ma allora magari ti viene chiesto la classica domanda piacere la domanda piacere sarebbero tante quello che posso dire che siamo in un mondo in cui la formazione liquida si impara per tutta la vita quindi non sia non sia mai troppo tardi per apprendere nuove competenze soprattutto non ci sono dei limiti veritieri ora non dico che uno debba incominciare medicina 45 anni però tendenzialmente se voglio apprendere come aprire un canale youtube come farlo fruttare ci sono dei corsi li posso fare come capire come creare un personal branding cioè io ho creato un personal branding con i capelli rossa c'è rossa viola blu ma appunto non è che ho letto nessun libro però ci ho provato e sto sono andata per prove di errori quindi tendenzialmente ti sembrerà che ti sembrerà ti dicono che il mondo è in crisi c'è comunque di stabilità però un mondo in cui ci sono molte più possibilità un mondo in cui certe tipologie di 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 muri sono sono molti più strumenti molto più informazione molta più possibilità di condivisioni social sono da questo punto di vista uno strumento potentissimo sì c'è tantissima informazione non hai scuse se vuoi imparare a fare qualunque cosa fondamentalmente c'è tantissimo rumore però questo quello che vedo io devi emergere in qualche modo distinguerti sì 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 bene fabiana ti ringrazio per questa chiacchierata come ti si può trovare su tiktok fabiana manager sicuramente e su instagram come fabiana manager uguale esatto hai un sito un sito sì www fabianandreani.it ma è un sito diciamo più che altro vetrina e la gran parte dei miei contenuti sono sui miei canali instagram e su tiktok bene bene quindi grazie mille per essere stata con noi andate a trovarla sui canali li mettiamo in descrizione e alla prossima grazie a te buona giornata ciao grazie ciao ti è piaciuto questo episodio di braincast bene faccelo sapere scrivi un commento clicca mi piace soprattutto facci sapere chi vorresti intervistassimo in una prossima edizione di braincast con questo è tutto ti saluto e ci vediamo in un altro video ciao